A poche ore dall'apertura degli show floor delle 3 2015 abbiamo avuto modo di provare nuovamente Call of Duty Black Ops 3. Lo ricorderete l'avevamo già provato ad aprile e avevamo riscontrato un aumento della mobilità dei personaggi anche rispetto ad Advanced Warfare. Ora al salto aumentato si aggiunge anche la possibilità di effettuare wall run, una scivolata aumentata e anche la possibilità di combattere sott'acqua. Tutti questi elementi si uniscono in una mobilità veramente apprezzabile e molto fluida, tra l'altro con delle nette differenze proprio a livello di controllo rispetto ad Advanced Warfare. Ma le novità di Black Ops 3 non finiscono qua. Ci sono infatti gli specialisti e si configurano come una sorta di classi da scegliere prima del sistema Pic 10, ossia quello che permette di personalizzare il proprio equipaggiamento e i perk. Queste classi presentano dei poteri speciali solitamente in due varianti. Il pensiero va subito ai guardiani di Destiny e infatti qualche richiamo c'è anche proprio negli stessi poteri speciali. Ad esempio c'è un attacco ad area che permette di sconfiggere più nemici in una volta sola, che ricorda l'attacco naturalmente del titano, oppure un revolver che è in grado di one-shotare praticamente gli avversari, che ricorda la pistola d'oro del cacciatore. Questi poteri si presentano in varianti anche più interessanti. Ce n'è infatti uno dedicato al specialista Prophet, che permette di tornare indietro nel tempo sostanzialmente di 5 secondi, ad esempio teletrasportandosi alle spalle di un avversario che ci stava attaccando da dietro. Questi poteri naturalmente cambiano drammaticamente gli equilibri delle partite e questo desta anche qualche preoccupazione relativamente al bilanciamento, soprattutto in ambito e-sport. È probabile che in quest'ambito infatti Treyarch decida di creare modalità dove i poteri degli specialisti vengono disattivati. Per quanto riguarda però le partite tradizionali, questi poteri diciamo svecchiano un po' quello che è il gameplay della serie e lo rendono ancora più frenetico da un certo punto di vista e passibile di grandi capovolgimenti nel caso una squadra riesca ad utilizzare efficacemente questi poteri anche cooperando. Ricapitolando, ci sono diverse novità interessanti per questo Black Ops 3. Di sicuro Treyarch sta dimostrando il coraggio di apportare qualche cambiamento sostanziale per la serie. Ci servono naturalmente più partite per capire quanto questi cambiamenti impatteranno sui bilanciamenti. Quindi rimanete con noi per tutte le novità. Grazie per la visione!